Ciao. Ecco dov'eri. Ti ho cercata dappertutto. Già, non sono riuscita a trovare un sasso abbastanza grande sotto il quale nascondermi. Sei mio amico, Stefan. Ho bisogno che tu me lo dica chiaramente. Sono una persona così orribile. Perciò è per questo che sei venuta qui. Va bene. Ti chiedo una cosa. Quando tu hai scoperto di me, Katrin, qual è stato il primo pensiero? Onestamente ho pensato che schifo. Ok, ma se me ne avessi fatto una colpa non saresti seduta qui con me in questo momento. O forse sono seduta qui perché so che vedi il lato migliore delle persone. Va bene, qualcuno dovrà apportirlo. A questo punto preparati. Sei pronta? Caroline? Sei una persona orribile, ok? Sei molto frivola, superficiale. Sei completamente inaffidabile. Può bastare? Sono un tipo vulnerabile. Per favore, non esagerare. Sai una cosa, ora che ci penso, non ho idea di cosa Klaus abbia visto in te. Dove aveva la testa? Smettila. Sì. No. No. Grazie.